Allora questi allievi come sono? Simpaticissimi, no davvero è divertentissimo insegnare, poi è quello che ho sempre fatto sciare e poterlo insegnare e poterci divertire insieme è veramente bellissimo. Ma nonostante la pioggia anche ieri c'è stata un sacco di gente e poi comunque sciando veramente anche le persone dicevano che la pioggia non si sente perché comunque divertendosi la pioggia veramente non è mai un problema ed era piena di gente anche ieri. Ma la domanda è questa, farei anche tu la marcia Gran Paradiso? Certo! Grazie a tutti!